Salve da Autocessore Fratelli Puglia e oggi vi presentiamo la nuova tromba della Marco e questa tromba si chiama P1-1. La tromba è composta da due cornetti cromati fissati su una struttura metallica, un relè che fa azionare le due elettrovalvole montate una per ogni tromba e questo relè può azionare sia alternato che unito. Questo tipo di tromba l'abbiamo disponibile sia a 12V che a 24V, ma ve la faccio ascoltare, quindi abbiamo collegato l'ingresso dell'aria grazie al nostro regolatore di pressione che lavora da 4 fino a 8-10 bar poi il relè c'è un negativo e un positivo, sottofussibile e andiamo alla massa grazie al nostro pulsante, ma lo andiamo a azionare. Ma volendo suonare questa tromba con il suono unito andiamo a unire questi due fili bianchi che vediamo, quindi li uniamo fra di loro, quindi come vediamo li abbiamo uniti, c'è scritto, non collegare a un positivo, se non salta l'intervallatore e adesso ve la faccio sentire a suono unito. È una tromba molto potente, è un'acustica unica, ma ve la faccio sentire di nuovo alternata perché è qui che dà il massimo questa tromba. Ecco, questi sono uniti, li stacchiamo di nuovo. Grazie da Auto Accessori Fratelli Puglia a Sala Consilina trovate in questa tromba e tanti altri accessori per la vostra auto nel nostro showroom che abbiamo sede a Sala Consilina sul nostro sito e-commerce www.autoaccessoriopuglia.com